Amministrare la giustizia, per alcuni un compito, una professione, per altri un'autentica missione, per tutti una assoluta presa di coscienza, che si svolge un lavoro molto delicato e che per una società civile, farlo senza condizionamenti o pressioni di alcun genere, è fatto imprescindibile. Ne vale la pena, e dunque il vero e proprio sunto di una vita da magistrato, quella di Armando Spataro, procuratore della Repubblica, giunto presso il Tribunale di Milano. Nelle pagine del suo libro, presentato ieri sera al Multisala Margherita di Aciriale per iniziativa di libera cittadinanza, la storia giudiziaria italiana degli ultimi 30 anni. Il titolo non ha il punto interrogativo, questo è molto importante, se ci fosse stato, il senso sarebbe stato di resa, di passività, invece ne vale la pena, riguarda il passato, perché è quello racconto, ma è chiaramente proiettato sul presente, soprattutto nel futuro, non è un caso che lo dedichi ai giovani magistrati. Se intende il titolo, riferirsi alla necessità che tutti in qualsiasi campo, certo io sono magistrato e parlo dei magistrati, abbiano come stella polare il dovere, forse retorico, però non ci sono parole diverse per dire che bisogna andare avanti, ne vale comunque la pena, nonostante le difficoltà e per quanto riguarda la magistratura, le aggressioni insopportabili di cui è oggetto. Quindi è un messaggio alle giovani generazioni? Non ho la presunzione di fare, voglio dire, il profeta, però certamente nel mio cuore, spesso quando ho rapporti e vedo giovani magistrati lavorare con convinzione fino a tarda, ora, nonostante si dica in genere il contrario, ecco, mi viene a dire fate così, continuate come in tanti fanno. Io non penso che i magistrati siano eroi, neppure quelli che sono stati uccisi, questo voglio dirlo, sono però persone che devono fare il loro dovere e dobbiamo difendere i nostri principi, i principi della giurisdizione, peraltro senza che questo significhi che tutto è difendibile, perché ci sono state anche delle pagine indifendibili nella storia della magistratura, dobbiamo parlare anche di questo, è quello che anche tento di fare nel libro, senza veli, come si dice. Ecco, ne vale la pena a posteriori, perché il libro ovviamente racconta del suo lavoro, ma durante il suo lavoro, è venuto mai in mente che certi ostacoli, certo silenzio era davvero insormontabile? No, assolutamente, gli ostacoli li abbiamo trovati, li troviamo tutti, ma anche in altri campi, pensi all'impegno dell'insegnante, se dovessi pensare a degli eroi penserei agli insegnanti oggi, formano i cittadini nel futuro in una situazione delicatissima. Però quello che per esempio mi ha spinto a scrivere questo libro è avere constatato in un caso il sequestro dell'Egiziano a Bomara, che gli ostacoli non venivano dai criminali, dai terroristi e i mafiosi, ma dai due governi di diverso colore, prima il governo Pruddy e poi il governo Berlusconi, che hanno chiesto di bloccare questo processo che riguardava sequestro e torture inflitte a un presunto terrorista, ovviamente le democrazie non possono permettersi questo, bisogna andare avanti, gli ostacoli ci sono, ma vabbè, chiunque faccia il suo dovere in qualsiasi campo se li trova davanti. Non è la prima volta che noi facciamo iniziative sulla giustizia in difesa dei valori di legalità, ma purtroppo, mi viene da dire, è sempre attuale l'argomento, vista, diciamo, l'insistenza con cui il potere politico cerca di soggiogare uno dei poteri cardine dello Stato di diritto, che è quello giudiziario. Il dottor Spataro rappresenta uno degli esempi, come dire, più fulgidi di... non vogliamo qui usare parole retoriche o paroloni, un semplice magistrato che chiede di amministrare una giustizia che sia una giustizia veramente uguale per tutti, senza condizionamento alcuno, da nessuna parte.